Il Decameron è un libro mondo che contiene storie di tutti i tipi, contiene grandi storie avventurose e piccoli episodi, quindi diciamo le storione e le storielle. C'è una frase in una delle novelle più lette, quella di Chiquibio, alla fine dice, a Currado piacque tanto questa risposta che tutta la sua ira si convertì in festa. A me piace molto questa frase, ma più che altro quello che rappresenta, cioè un'idea che appunto con una frase cambi la situazione. E la giornata sesta ci sono una serie di episodi che hanno questo in comune, sono appunto piccoli episodi, non sono le grandi storie. Io prima preferivo, credevo di preferire le grandi storie, quindi a Latiel, se ne va da tutte le parti, ne fa di tutti i colori e quelle le amo ancora molto, però anche il fatto, questi piccoli episodi in cui un motto, una frase, una battuta cambia la vita o cambia perlomeno la situazione, hanno per me un grande significato, forse perché le ho conosciute, no? Inizialmente nella campagna toscana, proprio nelle zone, diciamo, di Boccato, dalle parti di Certaldo, ma poi non solo nella campagna. È quasi come se, sono tutte storie, queste qui, realistiche, quasi tutte, mi sembra di ricordare, però è quasi come se fossero parole magiche, no? Per cui appunto il personale, l'interlocutore è arrabbiato, poi non lo è più. E mi ricordo, mi raccontarono sempre nella zona, diciamo, di Certaldo, di Certaldo e Gambassi, una signora aveva chiesto a un moratore di fare un forno per la pizza e questo forno è venuto giù e questo gli fa, ma signora, ma pensavo che durasse in eterno. Chiaramente la frase è assurda, no? Non so, tra l'altro in quel caso non credo abbia funzionato, però c'è quest'idea della frase che cambia della situazione, che dura fino a Amici miei. Io, nel film, una serie di film di Amici miei, è una lunghissima tradizione, appunto io la conosco in Toscana, immagino poi magari in certi contesti sia da tutte le parti, però per me ha un particolare significato perché io li ho visti, alcuni li vedo ancora, di questi soggetti. Non sempre la cosa ovviamente funziona nella realtà, nella vita reale, però certamente funziona, può funzionare anche a livello, diciamo, interiore, di umore. Io avevo un amico da ragazzo e qualsiasi cosa gli dicessi, diceva, e allora? Che non è che è una battuta per far ridere, però ridimensionava la cosa, diceva, ma io ho preso tre, greco, greco, cioè allora? E allora, andiamo, no? E quindi ecco, io suggerirei nell'opera mondo di Boccaccio, no? Può trovare di tutto, ma anche semplicemente di andare a vedere la giornata sesta o comunque le novelle in cui, con una frase, cioè come un salto, no? Cioè, un salto, mi sembra ne parli anche Calvino nelle lezioni americane, cita, proprio nella lezione sulla leggerezza, ci sono le novelle di Boccaccio dove Cavalcanti, che è un personaggio intortunato, comunque infastidito da altri, se ne va con un salto leggero, no? E questo dà una parte. L'altra cosa, che mi piace dire, è che in molte novelle di Boccaccio sono scorrette, sono, ora le troveremo alcune anche volgari, infatti sono quelle che di solito non vengono viste nelle antologie, le antologie più o meno sono sempre le stesse. E invece c'è sempre un, in altre, in molte altre c'è questo guizzo di scorrettezza, di liberenza e anche quasi appunto per noi di volgarità. Per questo per me è un grande tema, io non riesco mai a scrivere di cose, diciamo, tra virgolette frasi oscene, perché se le scrivo io, non so, mi sembra mi suoni falso. Però rispetto molto questa, anche qui, lunghissima tradizione, no? Che noi abbiamo un po' perso, perché la nostra è un'epoca che tende a moralizzare le altre epoche, quindi anche alcune storielle raccontate a Leonardo da Vinci non si dicono quasi più, uno deve andare a cercarle. Invece anche Leonardo da Vinci che uno si immagina sempre serio, no? E invece, per esempio, quando scriveva del suo amico Zoroastro da Peretola, racconta delle storie, per noi veramente ci sembrano, penso, grevi. Però in questo c'è invece uno, uno scatto, una libertà. Anche Giulio Cesare, Giulio Cesare uno si immagina sempre serio, no? Tra l'altro, scriveva benissimo, uno dei pochi, forse l'unico grandissimo condottiero, che è stato anche un grandissimo scrittore, però una scrittura molto seria, molto pulita. Commentando Ferenzio dice, o menandro di mezzato, perché sì, sei bravo, ma ti manca, come dire, la volgarità. E quindi sì, queste due cose io volevo dire, che poi sono la stessa forse. La capacità del linguaggio, della parola di capovolgere una situazione fuori o dentro di te, o anche tutte e due cose insieme, e anche la capacità di dire qualcosa, la libertà, la gioia di dire qualcosa che a noi oggi magari appare scorretto, però forse contiene una scintilla che varrebbe la pena di conservare. Grazie a tutti.